Stiamo creando assieme a Unilinko un corso di laurea in medicina e chirurgia che permetterà ai ragazzi calabresi e ad altri ragazzi italiani di poter svolgere questo corso di laurea all'interno del territorio italiano in una cittadina della Calabria che ha importantissime origini. Ricordiamo Pitagora che naturalmente rappresenta nella Magna Grecia uno degli scienziati più importanti dell'epoca. Il corso che è articolato assieme a Unilinko prevede il coinvolgimento di una commissione paritetica costituita da tre docenti nostri e tre docenti loro. Il corso dovrà coinvolgere 26 docenti e naturalmente di questi 26 docenti ci saranno una componente che è quasi due terzi di professori e un terzo di ricercatori. Quindi questo impegno deve essere ben ponderato per avere le carte in regola di avere l'accreditamento prima del CUN e poi dell'AMBUR. Catanzaro è cresciuto nel tempo, quest'anno abbiamo 433 studenti più 43 extracomunitari. Come si è potuto creare questo numero importante di studenti? Sicuramente si è potuto creare perché noi avevamo i docenti che sono cresciuti nel tempo, sicuramente perché avevamo una struttura ospedaliera importante, la Renato Tulbecco, che quindi ci ha permesso di aumentare il numero dei ragazzi e naturalmente anche il Ministero ci ha creduto e ci ha dato questa possibilità. Quindi gli studenti che fanno parte del contingente nazionale avranno il loro canale. I ragazzi che non sono idonei del contingente nazionale avranno un'ulteriore opportunità di iscriversi in medicina in questo corso che viene istituito assieme a Unilink.